La squadra mobile dell'Aquila, diretta dal dottor Tom Masoniglio, arrestato due minorenni per estorsione e droga, si tratta di due 17 anni di nazionalità albanese, autori di un'estorsione ai danni di un loro coetaneo. Uno di essi aveva anche sostanza stupefacente. Le indagini della squadra mobile sono partite perché la madre della vittima si accorta di cambiamenti d'umore e di atteggiamenti nel figlio. La donna, per comprendere cosa vi fosse all'origine dell'inquietudine del proprio ragazzo, ha ritenuto opportuno controllare il telefono e da alcune conversazioni whatsapp, si è resa conto che il figlio riceveva frequenti messaggi dal contenuto minatorio, con richieste di denaro causate da un debito che il ragazzo avrebbe contratto per presunti acquisti di droga non pagati. La donna, nel corso dell'inchiesta, ha ricevuto anche sulla propria utenza una chiamata da un numero anonimo che con tono imperativo e minaccioso le intimava di consegnare la somma di 110 euro al figlio. La donna si era anche offerta per consegnare il denaro all'estorsore, ma quest'ultimo rifiutò insistendo che fosse il ragazzo a portargli la cifra richiesta. La donna ha così deciso di rivolgersi agli investigatori della squadra mobile raccontando quanto accaduto e spiegando la pressione psicologica in cui versava il figlio e chiedendo anche di essere aiutata, in quanto di lì a poco il ragazzo avrebbe dovuto consegnare la somma richiesta nei pressi del polo scolastico di Colle Sapone. Gli investigatori hanno così raggiunto la vittima nel luogo scelto per la consegna del denaro senza che quest'ultima si rendesse conto di essere osservato. Trascorsi pochi minuti si sono avvicinati al ragazzo due coetanei ai quali il ragazzo ha consegnato la somma di 110 euro come da richiesta. A quel punto sono intervenuti i poliziotti della mobile. I ragazzi hanno tentato di scappare confondendosi con gli alunni che stavano entrando a scuola ma sono stati inseguiti e fermati. Nel corso della perquisizione personale a cui sono stati sottoposti due giovani albanesi, ad uno di loro sono state sequestrate anche 23 dosi di marijuana pronte per essere vendute nel polo scolastico di Colle Sapone.